a non comandiamo? ma che comandiamo? qua non comandiamo proprio nessuno insomma questa parte c'è un'intenzione di andare a fare il master negli Stati Uniti poi l'altro giorno ho pure chiamato ho detto pronto pronto c'è il dottor home ma come dottor home? dottor house? eh pure loro mi hanno detto io non c'ho mai rapido niente quando devo usare home o house dottoressa mi aiuti è un periodo che perdo subito la pazienza mi dica il suo problema già gliel'ho detto stronza la quinta mi ha offerto un mese di chiamate gravi e se versi i mobili un mese che parlo con l'armadio, con il comodino, con la sedia ah no ma pensi mai a qualcun altro mentre facciamo l'amore? no pure volendo me del tempo красивo ma non un bel dietro no ah no natura !!!! Grazie a tutti